Giovedì 21 luglio ben ritrovati su Vercelli Web TV. Acquisto e vendita di oggetti preziosi non dichiarati per oltre 4 milioni di euro. Questo è quanto è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Valenza a seguito di controlli nei confronti di un'impresa operante nel settore della produzione, commercio e fabbricazione di gioielleria ed oreficeria. Dalle verifiche delle fiamme gialle è emerso come gran parte delle operazioni commerciali dell'impresa non fossero regolarmente registrate in contabilità. I rapporti in nero riguardano diversi clienti e fornitori italiani. All'azienda che come detto non ha dichiarato redditi per 4 milioni di euro è stata accertata l'evasione dell'IVA per un totale di 1 milione e 200 mila euro. Il reato si sarebbe consumato dal 2012 ad oggi. Sempre sanità in primo piano nel nostro telegiornale. Sentiamo anche oggi alcune opinioni raccolte martedì sera durante la protesta silenziosa di Piazza Cavura a Vercelli ed organizzata da Andrea Cherchi. Perché non deve chiudere l'ospedale di Vercelli e perché finalmente dobbiamo scendere in piazza? Perché è stato il migliore ospedale del Piemonte e adesso che hanno mangiato tutti i soldi dell'ospedale vogliono chiuderlo. Quindi è giusto scendere in piazza, andare anche a Torino, alla regione, secondo me. Poi i polizzi che dovrebbero fare qualche cosa in più, che non stanno facendo niente. Manifestazioni di questo genere hanno senso, hanno un'utilità? C'è ancora speranza o i giochi sono già stati fatti? Ma io spero che ci sia ancora speranza. Per il semplice fatto che noi Vercelli, il nostro ospedale, lo dobbiamo ottenere, anzi non come adesso, ma a migliorarlo, non peggiorarlo. Sulla fine io dico che queste manifestazioni, fatti così come stasera, in silenzio, senza politici che gridano e che raccontano solo storie e poi sulla fine fanno ciò che vogliono loro. Penso che valgono più di quelle queste qui. Senz'altro che bisogna sì essere qua e anche come diceva il Mauriziano, anche andare a Torino a fare queste, non solo qua, perché là siamo più in vista di qua. Si chiama Walkie Talkie ed è la nuova iniziativa del Telefono Amico di Vercelli. Cos'è Walkie Talkie? È una camminata benefica che si terrà il 12 settembre a Vercelli, una camminata di 5 chilometri per i viali cittadini, per accogliere fondi appunto per Telefono Amico e anche volontari. Ce ne parla l'assessore Andrea Raineri. È una camminata fatta per sostenere Telefono Amico, per cercare nuovi volontari per Telefono Amico e per dare un segno di testimonianza importante alla nostra città. Una testimonianza di presenza, perché il servizio che Telefono Amico fa alle persone è proprio quello di avere una presenza certa, una disponibilità all'ascolto, una voglia di condividere magari dei momenti faticosi della vita. Non è così facile nella nostra società attuale trovare degli spazi d'ascolto. Quindi i volontari di questa associazione si mettono davvero a servizio, impegnando del tempo, delle energie e anche della fatica, perché tante volte ascoltare, ascoltare magari delle storie drammatiche o comunque pesanti o comunque anche semplicemente che creano un po' di tensione alle persone può essere davvero faticoso. Ma allo stesso tempo sicuramente la soddisfazione che si ha quando si hanno regalati alcuni minuti a delle persone per essere un pochino più serene è sicuramente un prezzo che vale la pena di pagare. Per cui davvero siamo molto contenti come amministrazione comunale di poter ospitare sul territorio questa bellissima iniziativa. E proprio chiediamo alla cittadinanza di partecipare, di partecipare in maniera attiva, perché è una delle tante occasioni per sentirci un pochino più vicini. Abbiamo bisogno di questa identità, abbiamo bisogno di questa voglia di stare insieme, abbiamo voglia di sostenerci l'uno con l'altro. Per cui la presenza alla camminata a Walkie Talkie il 18 settembre è proprio un dire io ci sto, sono vicino a te e ci credo come te. Per cui mi raccomando e scriviamoci in molti. Appuntamento in piazza Cavour sabato prossimo con Aspettando la Sagra, l'ormai tradizionale evento di musica e gastronomia organizzato ogni anno dal Comitato Vecchio Portacasale per presentare ufficialmente il programma della Sagra della Panissa. Giunta la sua ventisesima edizione è annunciare il nome della guest star che animerà la serata clou della Kermes Portacasalese in programma dal 20 al 26 agosto nell'area della Palestra Mazzini. Quest'anno lo spettacolo di piazza Cavour è dedicato ad uno dei più grandi paroglieri della musica leggere italiana, Mogol il Meglio. È infatti il titolo della serata che vedrà sul palco i Box Sound, gruppo già noto per il tributo a zucchero e che ora si cementa in questo nuovo progetto musicale. Il concerto presentato da Bruno Casalino sarà un'autentica riscoperta di canzoni che hanno fatto la storia della musica leggere italiana. Al termine della serata i cuochi del Comitato Vecchio Portacasale offriranno a tutti i presenti una degustazione della celebre panissa vercellese. L'inizio è previsto per le ore 21.30 e l'ingresso, come sempre, è gratuito. Domenica prossima a Casale Monferrato andrà in scena la seconda edizione della Kermes Galleggia non Galleggia, organizzata dagli amici del Po con il contributo del Comune di Casale. All'imbarcadero di Viale Lungo Pogramsci si sfideranno una cinquantina di equipaggi a bordo di imbarcazioni autoprodotte con l'ausilio di solo scotch e cartone da imballaggi. I natanti, costruiti durante la mattinata in riva al fiume, al pomeriggio dovranno sottoporsi alla prova più attesa, quella del galleggiamento sulle acque del grande fiume, ovviamente con l'equipaggio a bordo. In un gioco per bambini destinato agli adulti, possibile anche grazie alla supervisione delle operatori della Croce Rossa che garantiranno altissimi standard di sicurezza, non ci saranno vincitori. Tutti i concorrenti che parteciperanno saranno da considerarsi a loro modo vincenti. Il clima scherzoso e la generale messa al bando di ogni agonismo faranno il resto. Gli unici a divertirsi saranno ovviamente gli spettatori attesi a centinaia, anche perché i concorrenti ne faranno delle belle, provenienti da diverse province oltre che dal Monferrato. E ora passiamo allo sport e in particolar modo alla Provercelli. Tre acquisti dall'Inter a disposizione di Mister Longo, come già sapete. È lo stesso allenatore che ci traccia il profilo dei tre giovani. Palazzi è un centrocampista che riesce ad abbinare sia a costruzione del gioco che a fase di interdizione. È un centrocampista che l'anno scorso ha collezionato, se non erro, 12 presenze a Livorno, ma che avrebbe potuto giocare per quello che aveva espresso molto di più. È un giocatore su cui crediamo davvero in maniera importante. È un giocatore che può esprimersi in questa categoria su buonissimi livelli. Eguelfi è un terzino sinistro di ottima struttura fisica. È un terzino sinistro molto propenso alla fase di spinta e molto abile nella qualità dei cross. Sicuramente dovrà calarsi in una realtà difensiva e dovrà migliorare sotto l'aspetto difensivo per dimostrarsi affidabile per la categoria. Invece Baldini è un giocatore che quest'anno credo sia stato uno tra i migliori esterni, se non il migliore esterno del campionato primavera, che ha dimostrato nella categoria di essere un valore aggiunto in un campionato giovanile. Cambierà la musica perché la Serie B è un'altra cosa. Però può giocare sia a destra che a sinistra e quindi anche lui avrà una chance importante da potersi giocare sicuramente con l'entusiasmo del giovane, ma anche con le qualità di un ragazzo che nel suo percorso giovanile ha fatto vedere che era un giovane davvero di grande prospettiva. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto. Augurandomi una buona serata. L'appuntamento è come sempre per domani alle 19. A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti.